e l'esclamazione affibbiata ai siciliani quasi come fosse un segno di riconoscimento per alcuni è semplicemente volgare per altri di uso comune adesso è diventata anche uno spunto artistico che ha parecchio fatto discutere è successo a palermo dove quell'esclamazione è comparsa su una luminaria prendo un vero e proprio dibattito soprattutto perché è comparsa nel giorno in cui il capoluogo siciliano riceveva la visita di papa francesco un'esclamazione sulla quale sono stati fatti anche studi e che ha dato il marchio a una birra e che fabrizio cicero ha realizzato su una luminaria appunto nell'ambito di manifesta 2018 la biennale nomade europea di arte contemporanea la cui dodicesima edizione è stata ospitata proprio a palermo il progetto eiknim nasce il progetto minchia quindi nasce da da un'intuizione che così anche anche spontanea nel momento in cui ho saputo che palermo si sarebbe stata la sede di manifesta 12 in quel momento appena saputo la notizia ho detto ho esclamato minchia quindi ho cominciato a lavorare sul appunto sul perché di questa parola sul perché di questo successo della parola anche a livello facendo un'indagine sociale e quindi intervistando molte persone che prendendo pareri perché il lavoro è cresciuto appunto nel tempo quindi ha convinto in primis me nel questo in questo lasso di tempo prima della appunto della realizzazione della della scritta e quindi subito mi sono messo in contatto con il team dell'illuminare remondo perché appunto da un po di tempo abbiamo iniziato a lavorare insieme e quindi è un team che funziona capeggiato da appunto da andrea andrea triolo e con la sapienza tecnica e la sensibilità artistica di nino a zena hanno mi sono stati vicini e anche grazie alla produzione di andrea schiavo e acqua 5 h 501 da roma che si è potuto realizzare si è potuto realizzare l'installazione tra mille problemi perché comunque sono stati anche dei problemi riguardo alla al giorno in cui si è montata la scritta ecco non è una provocazione perché molti pensano che il 15 settembre si è stata si è stato organizzato proprio l'installazione per averla il 15 settembre a palermo dico questo perché il 15 settembre corrispondeva con la venuta del papa palermo non era neanche questa voluta quindi non c'è nel lavoro la provocazione c'è un un aspetto sociale molto forte dentro l'indagine della parola stessa la parola stessa la parola stessa